E' tempo di riscatto per la San Cataldese che domenico ospiterà il Real Aversa nella ventiquattresima giornata del girone I di Serie D con l'obiettivo di dimenticare la sconfitta patita sempre al Valentino Mazzola per mano del Castrovillari. La squadra campana arriverà in Sicilia sulla scorta della delicata e importante vittoria contro la Cireale che ha ridato slancio alla lotta per la salvezza. Per la San Cataldese invece è un altro scontro diretto reso ancora più interessante dai soli cinque punti che dividono le due squadre. Questo è il turno completo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie D girone I. Sabato in anticipo alle ore 15 Castrovillari Mariglianese mentre domenica alle 14.30 Cittanovese San Luca, Acireale Santa Maria Cilento, La Mezzia Terme Trapani, Locri Catania, Paternò Vibonese con calcio d'inizio alle 15 Canicattì Ragusa, città di Sant'Agata Licata, San Cataldese Real Aversa.